L'organizzazione aziendale è un concetto estremamente importante per l'imprenditore, al fine di pianificare e aumentare la produttività e di conseguenza il fatturato o la crescita dell'azienda. L'azienda come organizzazione può considerarsi un insieme di processi e sistemi che si intrecciano tra di loro, costituiti da una parte sociale del risorso umane e da una parte tecnica, quelle a supporto. Persone, tecnologie, mezzi, strumenti e know-how sono per l'impresa gli elementi fondamentali da tenere sotto controllo per organizzare l'azienda con le giuste gerarchie. A cosa serve l'organizzazione aziendale? L'organizzazione aziendale ha lo scopo ultimo di massimizzare il profitto e di aumentare il valore del prodotto, del servizio o l'esperienza da offrire ai propri clienti. È per tale motivo che a tutti i livelli gerarchici, in tutte le divisioni, ogni risorsa umana, dai top manager e addetti di ogni singolo processo, devono fare propri protocolli organizzativi e seguirli alla lettera. Per predisporre l'azienda affinché possa aumentare il valore offerto alla propria clientela c'è bisogno di far proprio il concetto che ogni dipartimento e sistema va ordinato, regolato e strutturato in maniera organizzata. Affinché un'azienda sia organizzata in modo produttivo c'è bisogno di sapere che l'azienda deve essere divisa in dipartimenti. Bisogna definire chiaramente ruoli e mansioni per ogni singolo dipartimento. Ogni persona che fa parte dell'organizzazione deve avere chiaro in mente il proprio compito e l'output del proprio lavoro. In un'organizzazione che funziona ogni dipendente deve essere autonomo, deve esserci un direttore per tutte le divisioni che formi, coordini e si prenda cura della crescita delle persone affinché diventano autonomi. Ogni persona deve avere responsabilità e obiettivi ben definiti. Ogni risorso umana deve avere chiaro i limiti del proprio ruolo. Ed infine bisogna avere delle procedure scritte da seguire pedisseguamente. Seguendo queste regole si può ottenere un'organizzazione ben strutturata ed avere maggiori garanzia di efficienza, profitto e performance brillanti. Se vuoi approfondire questo tema clicca sul link qui sotto e visiona il video di approfondimento. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao!